Sì, è un po' come dici tu, alla fine io ho fatto un gol e poi ho concesso il rigore per Vidal. È un po' come se fossi uno a uno con me stesso. Ovviamente è vero, loro hanno dominato la gara, ma credo che noi siamo stati bravi ad arginargli e concedergli solo poche opportunità. Noi però non abbiamo creato davvero niente. Sì, in generale anch'io credo che abbiamo difeso bene, abbiamo avuto un po' di sfortuna sul primo rigore e poi io avrei potuto decisamente fare meglio in occasione del secondo penalty. Ma sì, probabilmente devo dire di essere d'accordo con l'arbitro, sicuramente in occasione del primo rigore, da quello che mi han detto, era chiaramente fallo di mano. E se devo essere sincero anche sul rigore che ho causato io, il mio avversario è stato davvero bravo a girarsi, io ero lì vicino, ho provato a prendere il pallone ma non ci sono riuscito, ho colpito l'uomo, quindi sì, devo dare ragione all'arbitro. Grazie.